7.600 assunzioni, questo è il numero annunciato dal presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, nell'ambito del re-asset della sanità regionale. Primo obiettivo stabilizzare i precari e poi procedere, nell'arco di tre anni, alla re-emissione di personale medico e infermieristico in un tessuto che da circa 10 anni non vede l'ingresso di nuovo personale, creando non pochi problemi alla gestione delle cure ai pazienti. Una operazione che sarà ripartita per ciascuna ASL e che ha visto l'avallo del governo durante la riunione avvenuta lo scorso mese di dicembre in cui la regione Campania ha presentato il nuovo piano ospedaliero.